ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti su vari siti perché perché ho fatto questi acquisti perché volevo una collezione in particolare adesso prendo ogni scatola perché sono tre scatole una di maki beauty se vedete questo mobile è sporco è perché poco fa l'ho toccato e l'ho sporcato tutto con la ciglia una seconda scatola di cosmetiche for less e se riesco una terza scatola di notino allora cosa aveva preso mai una collezione di che collezione si tratta allora vediamo un po cosa farvi vedere allora prima di tutto ho acquistato un bel po di prodotti da notino da notino e mi hanno dato questi campioncini allora un profumo di olive di ugo boss un profumo di bottega veneta questa qui questa qui un profumo di ugo boss de chance che questo nel frattempo mi tampono e un profumo sempre di ugo boss che è questo qui cosa ho preso e anche questa di lancôme tenti de l'outre 0 3 beige io sono cadaverina ma questo è un po più scurino vabbè questo cosa ho preso ho preso delle cosucce allora per prima cosa vi faccio vedere per prima cosa vi faccio vedere due cose che non c'entrano in niente per questa collezione e sono due pennelli di catrice uno è questo qui che si chiama makeup brush che è questo è in edizione limitata questi vi ricordo le ho presi su un notino ve lo ripeto per l'ennesima volta perché poi nei commenti mi scrivete dove l'hai preso scusate se il telefono suona ed è questo questo pennello qua questo vedete ha una sezione bombata ma che va a salire e vi faccio vedere perché l'ho preso perché assomiglia un pochettino a questo qui di rare beauty siccome io adoro questo di rare beauty per mettere il fondotinta ho voluto prendere anche questo e devo dire che come densità delle setole ci avviciniamo e questo è diciamo un dupe e quindi l'ho voluto prendere e ho preso questo e poi non potevo non prendere quello piccolino sempre con la stessa forma aspettate che lo apro sempre con la stessa forma e che assomiglia leggermente ma non è che proprio ci assomiglia del tutto al pennello di zoeva che sarebbe questo vedete non sono uguali però si ci avvicina dai si ci avvicina ed è molto molto bello il pack è così rosa baby con le con le setole bianche allora cosa ho preso non riesco a non muovere veniamo al succo cos'ho preso perché questo video ci sono tre parti allora ho preso le limit edition di essence per quanto riguarda la carica di 101 no gli animaletti della birne tutti gli aristogatti e tutto la prima cosa che ho preso è questo siero al acido gli aluronico 30 ml di prodotto la boccettina c'è menù bellissima io ho già avevo preso le altre tre per quanto riguarda le principesse quindi ho preso anche questa sono molto contenta di averle prese e le ho prese anche scontate infatti per questo il video lo vedete adesso e non quando sono uscite infatti invece di fare un ordine su un sito soltanto siccome le cose già non c'erano più ho fatto diciamo vari ordini su vari siti allora questa abbiamo detto è menù era la gattina giusto e questo invece è il cagnolino ah che qui la chiamano marì vabbè questo invece è il cagnolino che qui c'è scritto lady ed è sempre all'acido gli aluronico questi sono i due prodotti di catrice se non mi sbaglio si sono tutti due catrice se non mi sbaglio si 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 catrice catrice sempre a 30 ml questa io poi la proverò e vi farò sapere poi cosa ho preso ho preso questo che è un body scrub con il cagnolino della carica di 101 è una profumazione ottima perché si sente vi giuro ha il tappo ma si sente una cosa no no è troppo bello lo devo assolutamente provare perché già dalla profumazione mi piace ed è 150 ml di prodotto per i prezzi per i prezzi per i prezzi allora cosa ho preso ho preso dei prodotti di essence e dei prodotti di catrice vi faccio vedere prima quelli di essence ho preso il blush di quello di carica di 101 mi piace tantissimo il pack perché non è in soft touch però è in cartone ma bello mi piace come stabilità del cartone ed è un blush illuminante viso in polvere ha uno specchietto e questo è il colore oggi sto veramente mi sembra di di mangiare anche le parole di come sto facendo ma sarà il caldo almeno credo almeno spero il blush in questione è questo non vi faccio lo swatch perché sennò qui mi perdo e sinceramente sto morendo dal caldo credetemi questo è il blush vedete ha delle parti luminose ed è molto molto bello è un fucsia un fucsia spento molto carino poi ho preso la palettina di bambi molto molto bella l'ho voluti prendere tutti proprio per avere per averli tutti sincera sono anche se alcuni colori non è che mi dicevano tanto perché non l'ho aperti prima ditemi ditemi perché io non l'ho aperti prima allora questa è la palettina di bambi ha un enorme specchio e le celline sono queste qua vedete sono molto molto belle ci sono anche quelle più glitterate e sono bellissime sperimentalmente il verde mi intriga tantissimo e negli ombretti matte no anche questo che è tipo shimmer ci sono delle farfalle non so se si riesce a vedere questi sono gli ombretti molto molto bella anche questa l'ultima palettina per quanto riguarda Essence è questa qui di Dumbo cioè bellissima effetto veramente io l'ho dovuti prendere tutti perché erano veramente da collezione anche questa uno specchio molto molto grande e questi sono i colori cioè guardate che colore è questo bellissimo veramente molto molto bello questa ha più toni del blu credo che questa forse forse è la mia preferita forse forse poi gli altri che ho preso sono quelli di Catrice che sono questi qua vi ripeto l'ho preso scontati allora la prima che vi faccio vedere è questa di Marie ed è il Face & Body Bronzer questi sono 26 grammi invece il blush era 14 grammi infatti se vedete c'è una differenza enorme con le due palettine questa è blush e questa è la terra ed è bellissima anche questa ha uno specchio molto molto grande e questa è la terra guardate qua ha il disegno di Mario Minou come la dovete chiamare bellissimo veramente è una terra stupenda e questa è Ladylike da 010 ho visto che molte persone l'hanno messa nei preferiti del mese quindi vuol dire che molti si sono trovati bene anche questo è un Face & Body bronzer quindi lo potete utilizzare anche nel corpo e questo è con Lady la cagnolina quindi poco fa ho detto Lady quella sto rincretinendo anche qui c'è uno specchio come in tutti e questa è molto più scura vedete questa è Lady vi voglio far vedere tutte e due vicino vediamo se riesco poi queste carte mi sa che le toglierò ma è una cosa leggera vedete queste sono le due terre questa è la 010 e questa è la 020 sono bellissime proprio con il disegno sono troppo belle andiamo alle palettine e ho preso queste tre palette dove abbiamo questa qui di Marie Ominou il pack dietro è fatto così e a differenza di quello di Essence è molto ma molto più grande anche la palettina ovviamente è di dimensione vedete un pochettino più grande e questa bellissima questa è tipo effetto zigrinato proprio si sente i quadrettini i quadrettini ha 18 shade uno specchio molto molto grande e questi sono i colori assomiglia molto alla new nude di Huda Beauty come colorazione molto molto bella ci sono dei colori bellissimi anche dei shimmer dei matt molto molto bella ovviamente ditemi se volete per ogni animaletto un video ve lo faccio un make up poi abbiamo questo con Lady molto carina questa ha dei toni sul nude si toni sul marroncino toni caldi molto carina anche questa io so che mi stanno sia i toni caldi che i toni freddi quindi poi io l'ho presa veramente da collezione queste palettine però li utilizzerò perché mi piacciono molto gli ombretti e soprattutto le polvere di Catrice di Essence mi piacciono molto e per finire ho preso Miss Bunny che è questa qui con delle colorazioni sul viola che a Stefania piacciono tantissimo che sono queste qui ogni cosa ogni celdina ha una texture differente vedete queste con le strisce dove è questa qui con le strisce l'altra con la strisce queste hanno una texture diversa veramente voglio farvi dei video per ogni palettina e farvi vedere com'è la loro performance perché mi piacciono tantissimo io di Catrice ho queste palette queste qui che sono la fine del mondo della pigmentazione che hanno sono stratosferiche mi trovo veramente mi trovo ad usarle perché impazzisco dalla texture che hanno sono troppo troppo buone veramente 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 poi ho fatto l'ordine di Cosmetic for Less perché volevo prendere altri prodotti e aspettate che vi faccio vedere cosa ho preso da Cosmetic for Less allora cosa ho preso su Cosmetic for Less questa pinzetta per quanto riguarda Essence sempre io mi trovo bene con le pinzette di Essence per me sono le migliori in assoluto e quindi l'ho voluta prendere poi ho preso un primer che è un Fix & Last è un Makeup Grip Jelly Primer questo qui che dicono che sia il dupe di quello di Milk e quindi l'ho voluto prendere così in caso faccio la comparazione e lo provo perché mi piaceva il fatto che era idratante e refresh quindi rinfrescante e questo è 29 ml per finire ho preso sempre di Essence Hydrating Glove Multi Spray ed è un Facy Body ed è questo qui lo voglio provare mamma mia buono buonissimo buono 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 bello di cocco si 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 sente il cocco buono buono allora per quanto riguarda invece la collezione degli animaletti ho preso il Magic Self-Taining Easer Spray allora questo è un cancellatore a bronzatura rimuove la tua bronzatura in un semplice gesto la tua pelle liscia e fresca preparandola per un nuovo strato di abbronzatura pulisce anche le mani dopo l'applicazione di prodotto autobronzante come si usa spruzzare il prodotto su una zona dove si desidera rimuovere allora siccome io ho preso quello per abbronzare non mi ricordo dove l'abbiamo messo allora io ho questo qui che ho trovato su le box di Look Fantastic ed è un face and body per abbronzare diciamo il viso però avevo paura di utilizzarlo perché se facevo delle macchie lo volevo togliere subito e quindi ho visto che questo prodotto di Essence dove c'è il cagnolino della carica dei 101 e proprio per questo tipo di prodotto e quindi l'ho voluto prendere poi ho preso questa che è una body shimmer gel ed è 100 ml di prodotto ed è una crema per il corpo luminosa queste se siete abbronzate è ottimo io ovviamente sono cadaverica se mi metto questo ciao mi vado a nascondere quindi lo lascio per il prossimo anno poi sempre per quanto riguarda le palettine ho preso questa qui sempre della carica dei 101 e apriamola 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 le zampette non so se si vedono le zampette sono veramente molto molto belle poi c'è un blu elettrico wow che talo di caffà e quindi proveremo anche questa mentre facevo l'ordine c'era questo set e quindi l'ho voluto prendere ed è un set con questa con questa con questa borsa che può essere riutilizzabile quindi potete mettere tipo i costumi bagnati la qualunque cosa poi c'era in questo set il panno per fare per mettere l'autobronzante ed è un panno tipo avete presente i panni quelli quelli per utilizzare per la polvere sembra un panno del genere e poi c'era questa borsetta tipo da mare dove ci sono dei prodotti all'interno tra cui questo che è un mousse autobronzante questo è nella colorazione light meno male è chiara nella colorazione light e ha il push quindi riesce tipo come schiuma e la potete utilizzare in tutto il corpo infatti ci sono i vari step da fare la vorrei utilizzare sinceramente anche per provare com'è e quindi questa è nella colorazione light quindi la più chiara poi abbiamo un body butter quindi io avevo preso lo scrubby questo è un body butter 150 ml di prodotto con lady nella foto c'è lady sentiamo se si può sentire la profumazione è chiuso sigillato mamma mia la profumazione è tipo tipo monoi il monoi sì bello è il monoi avete presente il monoi di di verroché di monoi sa di monoi questo è un burro per il corpo arricchito con olio di mandorle lascia la pelle morbida come la sete il delicato profumo di mandorla crea la perfetta sensazione estiva ottimo questo si deve utilizzare poi dicono perché non fai video e poi per finire c'era un rossetto sempre di lady di rossetti io non li ho presi perché non ero sicura sinceramente di prenderli e questo è il pack molto molto bello vedete con la scritta Disney qua alla fine è molto molto bello poi ovviamente se volete proveremo tutto ma tutto 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 poi per finire vi faccio vedere quello che ho preso da makilaila o maki beauty perché ovviamente facendo l'ordine in vari punti poi ho preso altri prodotti cosa ho preso allora cosa ho preso da maki beauty makilaila allora da makilaila ho preso di essence il skin lotion sensitive ed è un siero questo qui è uscito cioè quando l'ho preso è uscito da poco quindi lo volevo acquistare per provarlo perché non ho sieri per quanto riguarda essence di questo tipo poi ho preso vedete era una edizione limitata e ho preso il mascara per le sopracciglia questo qui trasparente questo qui trasparente si si vede lo scovolino anche qua e poi ho preso un eyeshadow base quindi una base per gli occhi e ho preso questo di solito io utilizzo il correttore però lo volevo provare poi per quanto riguarda la finitura diciamo del kit della Disney mi mancavano i due blush quello di Bambi e quello di Dumbo allora per quanto riguarda mi sto portando provito per quanto riguarda Bambi il pack ovviamente è sempre uguale e la colorazione è questa ed è un biscotto tipo sembra un malva però non sono sicura questo ovviamente lo proveremo ed è questo e poi Dumbo che è questo qui ed è il numero 02 ed è più rosa più rosa pesca ed è questo ovviamente se i colori non mi stanno bene non mi interessa ma io li ho presi anche da collezione e poi ho preso un altro set erano due set uno quello che avevo preso da Cosmetic for Last e questo qui che ho preso da Maki Beauty Maki Lyra ed è questo che ha la pochette molto grande vedete questa è la pochette davvero carina mi piace come pochette questa sicuramente per andare in vacanza è stupenda cosa troviamo troviamo un pennello di essence di essence si di essence si questo set è di essence invece quello era di catrice vero si di catrice infatti quello è di catrice è questo set di essence con un pennello molto molto bello e molto morbido con setole morbidissime scusate ma io mi sento il prurito addosso questo pennello molto molto morbido veramente ed è soft touch con la ghiera argentata ed è bellissimo guardate con la scritta molto molto bello veramente poi c'è all'interno un altro body shimmer quindi io ho preso questo allora si un body shimmer gel con bambi disegnato 100 ml di prodotti quindi questo è più chiaro si perché questo è più scuro e questo è più chiaro vedete questo questo è quello del set che trovate e quindi questo l'ho 01 ed è un body shimmer questa lo potete utilizzare per il corpo ovviamente tipo questa la posso utilizzare anche adesso che però non è che sta bene e questo invece quando si è più abbronzato questi io li lascio ovviamente per il prossimo anno così se per caso vado al mare prima mi posso abbronzare poi un altro prodotto è questo qui che è un plumping lip lip filler di essence ed è quello di bambi io non ho voluto prendere nel rossetti poi li ho trovati nei set nel rossetti nel tinte labbra nel lip gloss perché ne avevo tanti e questi su per giù sono quelle che non uso tanto ed è questo qui ed è un malva chiaro un rosa chiaro un malva chiaro è un rosa un malva tutte e due meschiati e per finire oltre la bellissima pochette abbiamo un altro body scrub sì un altro vediamo la profumazione deve essere sempre almonoi sì mi sa di sì ed è quest'altro body scrub io i body scrub li utilizzo ma ce l'ho doppione sì è un doppione sì sì è un doppione vabbè si vede che mi piaceva per averne due quindi questo l'avevo acquistato invece questo l'ho trovato sì perché questo è il allora io i pacchi li ho presi prima su notino quello che non ho trovato su notino l'ho preso su cosmetic for less quello che non ho trovato su cosmetic for less l'ho preso da makilaila perché notino era all'inizio erano su cosmetic for less però il prezzo era alto e non c'erano tutti i pezzi quindi non l'ho voluti prendere quando l'ho preso io erano scontati e quindi l'ho voluti prendere perché su cosmetic for less i prezzi sono abbastanza alti e ho visto che c'erano che c'erano a buon parte su notino e quindi ho fatto un ordine su notino quando poi hanno messo gli sconti su cosmetic for less ho preso la parte diciamo rimanente su cosmetic for less ma il pacco non mi arrivava e poi mi hanno mandato un'email che alcuni dei prodotti che avevo preso non c'erano più e che dovevo aspettare siccome a me interessava prenderli subito e quindi ho bloccato l'ordine e ho preso soltanto pochi pezzi quelli che avete visto e la rimanenza poi l'ho presa successivamente su makilaila perché è stato l'ultimo diciamo l'ultimo negozio online dove hanno portato tutta la collezione e quindi c'era anche su pink panda però su pink panda a differenza di notino e di makilaila costavano di più quindi ovviamente non l'ho voluto prendere comunque sono degli ottimi prodotti sono prodotti essence e catrice mi trovo benissimo però ovviamente voglio sapere i vostri pareri se vi piacciono o non vi piacciono se siete contenti che ho preso questa diciamo questa edizione limitata io vorrei fare tipo un make up con la palettina di bambi con il blush accoppiato la stessa identica cosa con il cagnolino della carica dei 101 e accoppiato con il blush poi vorrei fare tipo questo la palettina di catrice con il bronzer questo qui oppure la palettina di catrice con l'altro bronzer di marie oppure la palettina di dumbo con il blush accoppiato e per finire questo che è da solo bambi è da solo non c'è nessuno che si ci accoppia poi abbiamo i sieri comunque se volete un make up ditemelo che ve lo faccio molto molto volentieri perché sinceramente volevo proprio fare una cosa del genere per fare una non sto portando tanto il make up qui sul canale perché vedo che non sono visti vedo che non sono visti mi sa che sono stanga si si sono stanga niente ragazzi è tutto per quanto riguarda questo video io vi aspetto giù nei commenti vi raccomando scrivete tutto quello che volete basta ovviamente essere sempre educati ricordatevelo per quanto riguarda questo video è tutto io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao